Ho avuto modo già di parlare di questo argomento in maniera molto approfondita all'interno dell'Imprendi Promotore Podcast. Mi riferisco in particolar modo al gran consiglio dei clienti. Si è capito bene la possibilità di riunire due volte l'anno i tuoi clienti top intorno a un tavolo mettendoti in ascolto di quelle che possono essere le loro opinioni, le loro idee, i loro suggerimenti credo sia la cosa più bella in assoluto che tu possa fare per far crescere la tua impresa di consulenza finanziaria. In realtà si tratta di far diventare dei consulenti di marketing proprio i tuoi clienti. Cerchiamo di capire il perché. Nel momento in cui coinvolgi un cliente nel gran consiglio dei clienti in questa Customer Advisory Board avrai la possibilità innanzitutto di far sentire il cliente importante ma di farlo sentire appartenere alla tua community e questo è un elemento importantissimo. In secondo luogo è altrettanto importante dare ai clienti del materiale durante la Customer Advisory Board che permetta loro di poter colmare alcune lacune legate per esempio al tuo servizio. Si occupano di altro nella vita quindi metterli nella condizione di avere consapevolezza, contezza di ciò che fai può essere molto d'aiuto loro nel darti dei suggerimenti ma in secondo luogo anche avere un approccio che vede te esclusivamente in ascolto della loro opinione e dei loro feedback credo potrà darti tantissimi, gli inglesi direbbero, insight, approfondimenti per poter migliorare il servizio. In aggiunta a ciò oltre ai vantaggi immediati di poter ricevere un feedback da loro non dimenticare che nel momento in cui tu adotterai i loro suggerimenti, i loro consigli è molto probabile che loro stessi cominceranno a promuoverti perché ma semplice prova a metterti nei loro panni nel momento in cui una persona ti dà un suggerimento, un consiglio e tu la adotti domani quando lui vedrà che tu hai adottato la sua idea la prima cosa che farà sarà parlarne proprio con le persone che sono collegate a lui e questa cosa non farà altro che aumentare la tua reputazione, la tua credibilità ma soprattutto permetterà ai tuoi clienti di cominciare a referenziarti. Io sono Enrico Florentino e voglio aiutarti a migliorare la tua impresa di consulenza finanziaria. Ciao, alla prossima!